fanculo c'è a tutti benvenuti su cosmo channel finalmente un'azienda si è decisa di regalarmi il suo modulo laser da 30 watt con tutta la macchina anche per questa azienda è l'atomstack che ringrazio che mi ha inviato il suo laser più potente non lo so se atomstack ha già tirato fuori il laser da 48 watt mi devo informare meglio comunque ad oggi dovrebbe essere il laser più potente dell'atomstack poi se mi sbaglio ve lo scrivo in descrizione parliamo di un laser che ha un range dai 33 36 watt dopo la prova scopriremo che questo range non è proprio stato rispettato ai millivatt però comunque parliamo di un laser potente le dimensioni del punto di fuoco di questo laser sono di 0,08 per 0,1 mm non è il laser che ha il punto di fuoco più ristretto di tutto il mercato dei laser però parliamo sempre di un laser con 27 led quintali di lenti è anche normale non riuscire ad avere un punto di fuoco molto ristretto quindi come dimensioni devo dire che sono ristrettissime per essere un 30 watt ha un'area di incisione di 400 x 400 mm ha anche la slitta che può essere alzata o abbassata anche perché il modulo laser è abbastanza alto quindi questa slitta tramite queste vitine può essere alzata e abbassata in base alle nostre esigenze io l'ho voluta montare un po più alta anzi inizialmente l'avevo montata a bassa poi mi sono accorto che era un po troppo bassa perché quando si usa il nido d'ape e uno spessore abbastanza alto di pannello da lavorare rischiamo che non ci basta l'altezza quindi basta montarlo un po più alto e risolviamo tutti i nostri problemi problemi che ha il sistema di montaggio no ve lo dico dopo ve lo dico dopo in questo video vi mostrerò come si monta faccio un video veloce su come si monta perché sono quattro iti e faremo il test di potenza ottica reale e alla fine faremo un po di test per vedere un pochettino come si comporta vi dico subito che io già questi test li ho fatti perché io faccio l'intro dopo aver registrato tutto per non dire minchiate prima dirò una macchina bellissima poi alla fine va a cagare quindi vi dico subito che ha il 90 per cento di cose positive qualcosa di negativo ve lo dico poi alla fine nelle conclusioni quindi bando alle ciance andiamo a vedere cosa c'è all'interno dello scatolone pesante quando ci arriva a casa e lo andiamo a montare e poi via con i test dai andiamo quindi vediamo un po perfetto allora ci sta una piastra di acciaio per proteggere il nostro bancone del lavoro che è sempre più piccola dell'area totale delle di questa macchina e questa cosa è una bastardata perché tutti fanno questa cosa ma perché metterci una cosa più piccola vabbò andiamo avanti manuali manuale sull'uso del dell'applicazione si dell'applicazione per smartphone questo è l'air assist le istruzioni sull'air assist e un bel manuale che è anche in italiano si del montaggio si c'è montaggio non lo so vabbè si si c'è montaggio ma è veramente semplicissimo da montare ecco qua il tutto parto subito con il compressore dell'air assist è un bel compressore l'abbiamo già visto in questo canale questo è un colore un po più blu verde azzurro ok avete capito no che colore questa volta non tolgo neanche la protezione perché tanto userò l'altro bello è un ottimo compressore devo dire la verità un po grosso ma è anche abbastanza potente questo è un cavetto hdmi per il controller offline ma se non sbaglio non lo so devo vedere se c'è in questa versione profili profilo con scala metrica e ci sta anche il micro switch per l'homing cavetto usb questo che cacchio serve sto coso ma non lo so lo vedremo focus pad per mettere a fuoco questo coso carino carino lo vediamo per mettere a fuoco vediamo subito il controller il controller l'abbiamo già visto in tante altre macchine non niente di nuovo rispetto alle altre macchine anzi è praticamente uguale varie porte e l'antenna per il wifi vediamo qui sotto ecco qui qui ci sta invece tutto il kit di montaggio le varie cinghie le chiavi le chiavine e bulloni bulloncini test testerini e chiavetta usb usb na a 6x è una 6x già visto in altre macchine è un ottimo a 6x come le altre macchine e niente classico a 6x con lo stepper eccetera eccetera anche questo è munito di micro switch per l'homing andiamo avanti sperando di non far cascare tutto qui sotto ci saranno gli altri profili sì ci sono gli altri profili semplici profili ok oggi faccio cascare qualcosa eccolo quasi controller touchscreen offline qui non c'è niente qui non c'è niente qui ci sono gli occhiali che lascio qua naturalmente in descrizione vi lascerò il link per degli occhiali seri questo lo vediamo alla fine che mi piace atom stack questo questo qui questo è qualcosa di spettacolare morbido e naturalmente il tubo per l'air assist pennello per la barba io lo uso per pettinarmi la barba cavo sdoppiatore per alimentare macchina e compressore per air assist eccetera eccetera beh il cavetto per l'alimentazione del dell'alimentatore l'alimentatore che dovrebbe essere abbastanza grosso sì un alimentatore 6 ampere 24 volte 6 ampere mettiamo di qua infine chi sta lui ecco lo faccio da anni bello grosso bello pesante questo qui la versione è questa qui dosta acqua non riesco e la m 150 quindi qui sotto c'è 33 36 watt vediamo che c'è una rotellina per bloccarlo con la sua slitta l'ugello per collegare il tubo dell'air assist il connettore dosta sempre al contrario questo qua per collegare l'alimentazione un vetrino per proteggere i nostri occhietti e infine l'ugello per l'air assist come vedete è abbastanza grosso diverso rispetto alle altre versioni forse credo che sia leggermente più potenziato e questo è il modulo laser adesso vado a montare e vediamo come funziona aspetta 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 che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo a 27, 28 watt, siamo a 29, si arriva sicuro ai 30, infatti 30 watt li sta superando, 31 watt, 31 watt e mezzo, 31 watt e 7, dai. Mettiamo a fuoco con questo aggeggio, basta appoggiarlo e poi lo togliamo. Facciamo un test di taglio, uso il Material Tools Generator di Lightburn perché questo è un 30 watt e non ce l'ho il file pronto. Si va. Andiamo con la Gioconda. La Gioconda la sto incidendo a 5000 mm al minuto, potenza 60%, dovrebbe essere anche abbastanza alta la potenza. Partiamo con le prove che ci piacciono tanto, il taglio. Taglio di un listello di abete da 15 mm, utilizzerò una potenza del 90% con una velocità di 200 mm al minuto. Vediamo in quanti passaggi riesce a tagliarlo. Ecco il taglio, guardate com'è pulito, è veramente pulito e non sporca. Sono io sporco. Guarda che bel taglio. Wow. Andiamo a vedere se riesce a tagliare questo qui. Questo qui è sempre abete ma da 30 mm. Userò sempre i 200 mm al minuto, potenza 90%, non voglio andare al 100% perché non mi piace lavorare con queste alte potenze. Si va. E si va. Lo ho spento prima. perché ho visto che ha già forato, è solo un pezzettino, infatti è comunque carbonizzato, noi non andremo mai a tagliare spessori del genere, ora giusto per curiosità, guardate qui è veramente molto bruciato la prima parte, diciamo che ecco un legno pieno fino ai 15-20 mm si taglia tranquillamente, superata quella soglia si inizia a bruciare veramente tanto, andiamo a vedere un attimo il multistrato, sono curioso anche di vedere il multistrato, vediamo il multistrato da 15 mm, userò una velocità di 200 mm al minuto, potenza 80%, andiamo di air assist, e si va. Ok, ecco il risultato come vedete è un taglio abbastanza pulito, un pochettino ha bruciato però comunque con le impostazioni migliori riusciremo ad avere un risultato migliore. E se ti stai chiedendo se è possibile utilizzare il touchscreen per lavorare i tuoi file tramite il lettore di micro sd è possibile inserire all'interno di una micro sd i file che vogliamo lavorare e tramite il controller offline touchscreen è possibile far partire una lavorazione senza dover per forza collegare il computer al alla macchina. Possiamo spostare la macchina fargli fare il frame e far partire l'incisione. Con questa macchina è possibile utilizzare l'applicazione della atom stack vi lascio il link in descrizione. Una volta collegato il wifi basta andare qui lui troverà il nostro engraver e lo collegheremo. Una volta che abbiamo collegato la nostra macchina possiamo incidere una foto che abbiamo all'interno del nostro cellulare oppure incidere lavorare un file che abbiamo sempre nella memoria possiamo addirittura lavorare un file creato da noi ciao ciao così oppure possiamo andare aggiungere un testo eccetera eccetera una volta fatto questo possiamo decidere se in bianco e nero oppure semplicemente uno schizzo possiamo andare a regolare le varie cose inseriamo le dimensioni io lascio 78 x 38 mm va benissimo velocità ci mettiamo un 2000 anzi facciamo così ci mettiamo un 4000 mm al minuto una potenza ecco qui la potenza non viene espressa in percentuale ma da 0 a 1000 1000 100% 0 e lo 0% 500 e il 50% io ci metto per fare prima giusto per farvelo vedere ci metto un 60% ok andiamo su prossimo una volta che è tutto pronto vi faccio vedere basta andare su confermare possiamo spostarci per mettere a fuoco oppure fare un homing possiamo andare a fare un frame e si può andare iniziare facile nel frattempo possiamo anche cambiare le impostazioni tipo posso aumentare la velocità portarla che ne so al 200 per cento 140 tutto qua ho fatto un po di test vediamo questi risultati taglio di un multistrato da 3 mm guardate come è riuscito a tagliare con solo 20 per cento della sua potenza totale a 100 mm al minuto questa è una cosa spettacolare perché perché se noi riusciamo a lavorare con potenze basse velocità naturalmente basse riusciamo a salvaguardare la vita del nostro laser quindi magari lasciamo perdere le incisioni con potenze troppo alte se andiamo proprio di fretta ecco possiamo salire a 500 mm al minuto con massimo di 90 per cento siamo al limite ecco scendiamo intorno ai 450 mm al minuto con una potenza del 70 per cento riusciremo sicuramente a salvaguardare il nostro laser soprattutto ad avere un taglio abbastanza veloce per quanto riguarda invece il test di linea quindi di quanto è fino la linea vabbè lasciamo perdere qui ho inciso troppo con una velocità troppo bassa per il resto comunque è riuscito a incidere con una linea abbastanza nitida sicuramente ho visto di meglio non è il top come incisione laser però va benissimo comunque qui ho scritto atom stack bellissimo bellissimo poi vediamo monnalisa monnalisa è stata incisa benissimo ha un effetto tridimensionale come vedete ha un effetto tridimensionale ha comunque un'ottima gradazione di grigi che va dal grigio molto molto chiaro fino al quasi nero diciamo che il nero dipende molto dal tipo di materiale che stiamo utilizzando comunque devo dire che questa monnalisa è stata incisa a 5000 mm al minuto potenza 60 per cento come vedete il risultato è perfetto poi ho voluto fare un test di super velocità per vedere come si comporta tutta la struttura e ho notato qualche piccolo difettuccio che devo controllare perché probabilmente c'è qualche ruota che saltello ogni tanto come vedete ha 20.000 mm al minuto potenza 100 per cento ha inciso ma è veramente pochissimo all'incisione quasi non si vede quindi sarebbe inutile incidere a 20.000 mm al minuto potenza 100 per cento perché non incidiamo bene e comunque andiamo a rovinare il laser ha 10.000 mm al minuto potenza 90 per cento ha inciso però queste velocità sono un po troppo alte non so se è riuscito a vedere che le linee sono anzi soprattutto le curve ecco qui non sono proprio nitide nitide ma state tranquilli stando sotto ai 5000 6000 mm al minuto non avremo questi difetti devo controllare bene un po le cinghie un po le cose perché qualcosa non mi quadra siamo finalmente giunti alle conclusioni cosa mi è piaciuto di questa macchina mi è piaciuto il sistema per la messa a fuoco è un pezzo di ferro che si mette in questo modo per mettere a fuoco quindi tra la superficie da incidere e il laser oppure se noi decidiamo di smontare questa protezione la protezione per i nostri occhi allora si può utilizzare in questo modo quindi mettendolo qui io vi sconsiglio di togliere questa protezione perché almeno possiamo stargli vicino senza occhiali purché non andiamo a guardare direttamente l'incisione e tra l'altro si mette anche in questa posizione e così non lo perdiamo un'altra cosa che mi è piaciuto è il sistema air assist funziona è potente questo compressore l'ho già visto l'ho già testato è un compressore che può lavorare ore fidatevi lavora tranquillamente ore senza scaldare mai può essere regolato ma io lo lascio sempre alla massima potenza il modulo laser parliamo del modulo laser il modulo laser mi è piaciuto è un modulo laser compatto ha un fascio laser che non è tra i più stretti del mercato ma comunque si comporta molto bene diciamo che ecco consiglierei questo modulo laser più che altro per tagliare se vogliamo tagliare sagomare e questa è la nostra passione allora un laser da 30 watt e passa di questo genere fa proprio al caso vostro se invece la vostra passione è l'incisione le incisioni piccole incisioni precise forse magari possiamo andare sul laser di potenza inferiore ma che hanno un punto di messa a fuoco un po più ristretto il controller offline devo dire che mi è piaciuto veramente io normalmente non lo uso anzi non lo uso mai lo uso solo quando faccio questi test e invece devo iniziare a usare perché ha tante piccole cose che ci permettono di lavorare un file che magari lavoriamo spesso senza dover portarci computer senza dover avere il computer occupato per un'incisione laser da due tre ore quindi devo dire che mi è piaciuto il controller è il classico controller atom stack ottimo controller veloce eccetera eccetera non sto a dire quanto è buono quanto è bello tanto bene o male sono tutti uguali ormai controller non ha particolari sicurezza a parte un bel fungo rosso che funziona la struttura è la classica struttura atom stack atom stack lentamente si sta evolvendo sulle strutture ma ancora immette nel mercato questo tipo di strutture che va benissimo le usate tantissimo queste strutture però magari un sistema di scorrimento un po meno problematico sarebbe il caso di utilizzare se soprattutto usiamo questi moduli laser molto pesanti quindi forse ecco su questa su questo aspetto avrei preferito una struttura un po più moderna ciò non vuol dire che non vada bene attenzione va benissimo però ecco un laser da 1200 euro con un modulo laser così pesante magari una struttura un po più complessa sarebbe stata l'ideale i movimenti sono fluidi non soffre di gradini fate attenzione quando acquistate una macchina la cosa che dovete vedere è quando spostate un asse questo non deve incontrare nessun tipo di gradino un tic un toc ecco facciamo adesso pure gli effetti speciali non deve assolutamente avere degli intoppi perché quegli intoppi poi nell'incisione si vedono quindi voi spostate tutti gli assi a mano se ogni pochi centimetri sentite un toc quindi il laser che tende a bloccarsi o comunque l'asse che tende a bloccarsi ecco in quel caso dovete sostituire i cuscinetti quindi queste ruote di plastica sicuramente ne farò un video perché pare che sia un problema molto comune anche lo sto vedendo anche grazie al mio gruppo facebook che tu non conosci ma lo dovrai conoscere per forza perché ti devi iscrivere in questo gruppo facebook cerco di aiutare tutti quelli che sono entrati in questo mondo che hanno dei piccoli problemi non solo io cerco di aiutare ma spero che anche voi che magari avete già risolto quel problema riuscite ad aiutare anche gli altri quindi non sono da solo ad aiutare mezzo mondo e adesso dopo tutte queste parole belle rivolte a questa macchina parliamo delle cose brutte perché è giusto mi arriva una macchina pagata al 1300 euro devo avere una macchina che funziona perfettamente deve essere pensata costruita progettata perfettamente perché non è una macchina da 200 euro dove dico vabbò l'ho pagata 200 euro no c'è gente che guadagna 1300 euro in due mesi di stipendio quindi deve essere perfetta che cos'è che non mi piace di questa macchina e glielo scriverò anche al costruttore non mi piace la slitta di questo laser di come si blocca questo laser praticamente è una slitta per altri laser adattata anzi utilizzata anche per questo laser che ha un altro sistema cioè ha una slitta un po' più fina rispetto a quello originale ma ve lo faccio vedere perché se no non ci capita niente vi faccio vedere di cosa sto parlando perché magari a vederlo da lontano è difficile allora questa qui è la slitta questa qui è la slitta femmina in questa slitta ci vanno quasi tutti i laser sia da 10 che da 20 che da 30 watt dell'atom stack questa qui invece è la slitta maschio collegata al mio laser il problema di questa slitta è che guardate come si muove si muove è più larga la slitta femmina rispetto al maschio e quando io lo vado a stringere guardate se io questo fammi togliere questo qua ecco qua ecco qua così forse va meglio guardate che succede il laser non è perfettamente in linea con l'asse x quindi se io non lo stringo bene lo posso stringere o così o così e questo non va bene certo si fa con un po di attenzione comunque si può mettere a fuoco e lo noto anche se io lo metto a battuta con quest'asse se io non lo stringo bene come vedete non è perfettamente in linea quindi il mio consiglio è quando mettete a fuoco fate attenzione a quando stringete si può risolvere mettendo un paio di spessori uno spessore però perché lo devo fare io perché e quindi avete visto cos'è che non mi è piaciuto di questa macchina è un problema che si può risolvere attenzione non è un qualcosa di grave che ci impedisce di incidere durante l'incisione una volta fatto il frame probabilmente se è storto non lo noteremo però cavolo 1800 euro deve essere perfetto quindi in descrizione vi lascerò tutti i link per acquistarlo e anche un file con tutti i materiali e i vari parametri utilizzando naturalmente questo laser vi lascerò sempre in descrizione anche il link per iscrivervi al gruppo facebook vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale youtube per non perdervi poi nessun video che uscirà attivate anche sta benedetta campanella niente ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente il test del rotary atom stack perché è abbastanza interessante quindi dai ci vediamo al prossimo video ciao